Cosa successe a Canne? A Canne nel 216 a.C. avvenne una delle battaglie più sanguinose della storia. Da una parte abbiamo Annipale, il generale cartaginese, abile e molto deciso a distruggere Roma. Dall'altra parte abbiamo l'esercito romano. In questa battaglia l'esercito romano fu distrutto, annientato da Annipale. Roma, per i parametri del tempo, fu sconfitta da Annipale, ma Roma non accetta la sconfitta. E qualche anno più avanti, nel 202 a.C., Azama, in Africa, combatterà una battaglia in cui Scipione, che da quel momento verrà chiamato Scipione l'Africano, riuscì a vincere Annipale. Attenzione, Canne non è la città francese in cui si svolge solitamente il festival del cinema, ma Canne è l'altopiano che si trova in Puglia. Ciao, al prossimo video! Vi aspetto! Ciao! 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 Ciao!